Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Love Music, il programma con la musica più bella di sempre. Sono finalmente tornata in studio dove tutto prende forma e ha un colore luminoso giallo 105, grazie per avermi seguita ogni domenica durante queste feste, durante questo nuovo anno, un po' in giro per l'Italia, Napoli a casa mia, però sempre insieme, sempre uniti dalla musica, dalla voglia di passare queste due ore con tante notizie, tanti aneddoti, però mi sento di dire che si ricomincia ufficialmente da qui, il studio che è un po'...